La fatturazione elettronica è il nuovo modo di inviare e ricevere fatture in formato digitale. Obbligatoria per le partite IVA dal 2019, la fatturazione elettronica ha incontrato grande successo per i suoi vantaggi, come la dematerializzazione e la digitalizzazione dei dati. Il processo inizia con la creazione online della fattura e il successivo invio al destinatario con un clic. Sarà il servizio a occuparsi di tutto ciò che è necessario per la validità della fattura elettronica. Viene creato il tracciato standard XML secondo i requisiti dell'Agenzia delle Entrate, che poi sarà automaticamente inviato al sistema di interscambio. Successivamente verrà posto in conservazione, insieme alle notifiche provenienti dall'Agenzia delle Entrate. Il tutto in linea con la normativa di riferimento e in modo del tutto trasparente per te. Potrai beneficiare di una maggiore velocità nella compilazione della fattura, grazie all'archivio informatico dei dati da inserire, riducendo notevolmente i rischi di errore. Vai al prossimo video per saperne di più!